Ci troviamo presso la struttura della Calypso Life Club e qui con noi c'è Matteo Bortolozzo che ci dirà come va questa prima settimana di preparazione, le impressioni, i ragazzi, la struttura. Sicuramente è una prima settimana molto intensa, soprattutto a livello fisico, stiamo toccando palla solo negli ultimi due giorni, però va bene così, ci serve un bel lavoro anche per smaltire un po' tutto quello che non abbiamo fatto in estate. Per quanto riguarda i ragazzi, mi sembra sinceramente un bel gruppo, un gruppo giovane, un gruppo che ha voglia di fare bene e soprattutto di dimostrare. Alla fine io penso che più giovani ci siano in una squadra sia un indice della voglia di emergere che appunto possono avere questi ragazzi, quindi secondo me è molto positiva questa squadra e questo fattore di giovinezza. Inizierete a breve i test sul campo, partirete con degli allenamenti congiunti, il primo a Padova, per te familiare come zona. Infatti sono contento che la prima amichevole sia a Padova, a casa mia. Non vedo l'ora di toccare questa palla finalmente, di mettermi alla prova insieme ai miei compagni di squadra e vedere subito, fin da subito, qual è la nostra forma fisica, soprattutto tecnica. e secondo me è bello, sarà bello fare questa amichevole anche appunto per vedere a che punto stiamo. Un po' prematuro forse fare delle supposizioni per quello che potrà essere il campionato, però ci puoi confermare che siete carichi e che sicuramente si freme per iniziare? Assolutamente, assolutamente sì. Sai, alla fine i sogni sono sempre grandi, quindi è logico che io penso che tutti noi vogliano fare bene, arrivare più in alto possibile. Sappiamo che ci sono degli squadroni molto attrezzati, però abbiamo anche la fortuna di avere questi due gironi divisi in cui si possono, secondo me, esprimere meglio tutte le squadre, dalle più grandi a quelle un po' meno, diciamo, blasonate. E quindi, certo, io punto ad arrivare in alto, poi è logico che bisogna vedere anche tutto un insieme di altre cose.